Con l'arrivo del freddo e della pioggia aumenta anche l'incidenza dei casi di influenza stagionale. Secondo gli esperti, nei prossimi due mesi saranno circa 15 milioni di italiani a restare a letto, con il nuovo virus H1N1 PDM09. Non si tratta dell'influenza suina, è bene chiarirlo, ma quello che circola è il ceppo dell'influenza umana presente in tutte le stagioni influenzali dal 2009, isolato per la prima volta in Messico e che quest'anno ha già costretto a letto quasi 7 milioni di italiani durante il periodo che andava dall'immacolata a capodanno. Febbre alta, malattie a carico dell'apparato respiratorio e gastrointestinale è un decorso post-influenzale molto lento, i sintomi che maggiormente vengono riscontrati nei soggetti colpiti. In questi giorni file si registrano in farmacia e nei pronto soccorso, spesso in tilt. A rischio non soltanto gli anziani e i soggetti fragili, ma anche e soprattutto i bambini. Vincenzo Tipo, responsabile del pronto soccorso del Santo Bono, sottolinea. Il flusso è sicuramente più elevato rispetto agli altri giorni dell'anno, siamo a un 30-40% in più. Noi in pediatria viviamo questa duplice epidemia, quella dell'influenza classica, quello del virus respiratorio sincenziale che è poi quel virus che colpisce le vie respiratorie dei bambini molto piccoli e dei lattanti al di sotto del primo anno di vita. Casi Covid sono pochi, in relazione alle altre due forme epidemiche quella del Covid è quella che ci preoccupa sicuramente di meno.